parte il traversone, a centro aria, attenzione il pallone che arriva a Edera, 2-0 Torino nel momento migliore della Roma, come nel primo tempo, il tono colpisce ancora e sono due ora da recuperare per i giallorossi bellissimo il cross di Berenguer cambio azzeccatissimo di Mijajlovic dopo il gol alla Lazio, Edera purga anche la Roma parcondicio per il giovane Granata